Buongiorno a tutti, io sono Giulia Echino, faccio l'editor per la narrativa di Bompiani nel gruppo editoriale Giunti e faccio questo lavoro da ormai quasi 20 anni. Ho cominciato a lavorare da mondadori come correttrice di bozze e poi mi sono occupata del lavoro in redazione, del coordinamento redazionale e solo a un certo punto sono passata a occuparmi del processo di scelta dei titoli da pubblicare e di concepimento del programma editoriale che è poi l'attività propria dell'editor. Oggi il mondo editoriale è profondamente mutato rispetto a 20 anni fa quando io ho cominciato, allora era ancora possibile formarsi dentro le case editrici perché gli addetti editoriali erano tanti e c'era tempo per formare le nuove leve in case editrice per dedicargli attenzione e aiutarli a imparare. Oggi non è più così, oggi è fondamentale arrivare a proporsi agli editori per trovare lavoro presso di essi avendo già un bagaglio di competenze acquisito altrove come per esempio al Master SEMA che offre una serie di esperienze sul campo con dei professionisti di alto livello e che mette soprattutto voi studenti in contatto con tutte le persone che vivono l'avventura del fare libri ogni giorno. Fare libri significa avere tutte queste professionalità, conoscere delle tecniche e degli aspetti estremamente specifici del settore e al tempo stesso significa avere una visione, riflettere su un progetto perché fare libri in qualche modo significa stare sempre aperti con lo sguardo rivolto al futuro, con lo sguardo rivolto a un pubblico di lettori, immaginando che cosa resterà di tutto ciò che facciamo oggi. Fare libri significa lanciare delle frecce verso un futuro del quale molte cose sono imprevedibili, allora incontrare come accade al Master SEMA chi i libri li fa quotidianamente significa anche iniziare a riflettere su questi aspetti che sono quelli meno insegnabili ma non meno importanti della vita dei libri e prepararsi per le grandi sfide che il futuro dei libri della lettura riserva a tutti noi. Grazie, a presto!